Kylian Mbappé, la notizia ha scosso il mondo del calcio. È stata un'estate intensa per il talentuoso fuoriclasse francese, e ora, finalmente, abbiamo una clamorosa rivelazione che potrebbe cambiare il corso della sua carriera calcistica. Metti un like al video ed iscriviti al canale per supportarci. Grazie. Kylian Mbappé, il giovane prodigio che ha affascinato il mondo del calcio sin dai suoi esordi con il Monaco a soli 17 anni. Ha attraversato una stagione estiva tumultuosa. Dopo aver annunciato al PSG la sua decisione di non rinnovare il contratto con il club, è iniziata una vera e propria guerra con la dirigenza. Cosa pensate della decisione di Kylian di non rinnovare con il PSG? Questo conflitto lo ha portato a essere escluso dalla Rosa, ma la sua passione per il calcio e la sua determinazione lo hanno riportato in campo. Ma la notizia che vi stiamo per svelare è ancora più sorprendente. Sembra che Mbappé abbia una squadra per cui tifava sin da piccolo, il Milan. Questo amore per il club italiano è stato trasmesso da una babysitter italiana, che lo ha influenzato a tal punto da farlo addormentare con la maglia di Robino quando era solo un bambino. Inoltre, un amico d'infanzia ha rivelato che nei suoi programmi futuri c'è anche l'idea di indossare la maglia del Milan, ma forse solo alla fine della sua carriera. Questo annuncio ha scatenato la curiosità di molti, e i tifosi del Milan potrebbero finalmente vedere uno dei talenti più brillanti del calcio mondiale vestire la loro maglia. La sua carriera è stata un trionfo sin dai suoi esordi, e ora, con il possibile trasferimento al Milan in futuro, i fan di entrambi i club possono iniziare a sognare. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al nostro canale per non perdere neanche un dettaglio di questo avvincente capitolo del calcio internazionale.